eccolo ho voluto dire eccolo mentre passavi così vedono che ci sei anche te perché sennò pensano che parlo da solo durante i video no e voglio far vedere signore e signori parte numero 2 sulla libertà finanziaria partiamo subito a cannone parliamo dei quadranti noi quadrante del cash flow se avete letto padre ricco padre povero cena avete veramente a vomitare di queste informazioni ma le rivediamo in modo un po diverso cosa vediamo nel quadrante in alta sinistra il dipendente che il dipendente la ruota di scorta della società fine rapido passiamo poi al freelancer perché questa persona nonostante sembri migliore del dipendente inizialmente è invece molto più infima perché perché lavora molto di più e guadagna molto di meno il freelancer ricava il denaro quindi i suoi ricavi dal tempo per valore io sono riuscito a passare da dipendente a freelancer e adesso non dipende più da quanto tempo lavoro ma da che risultati porto da quante persone guardano i miei video da quante si iscrivono al mio canale telegram da quante bla 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 si arriva così poi all'imprenditore che arriva al bar col suo bmw x5 passa il 90 per cento della giornata al telefono a risolvere problemi a risolvere casini quindi anche lui si può dire che si fa una vita un po più agiata in generale ma anche lui insomma si deve fare due a differenza del freelancer ha sia il tempo da investire che il valore che genera attraverso i suoi servizi o prodotti ma la cosa fondamentale è che sa delegare quindi il suo denaro deriva da tempo per valore per delega e quindi sarà una sua responsabilità e non è per niente facile riuscire a delegare a delle persone giuste le sue aziende si dice sempre che un imprenditore è quella persona che riesce prima o poi a rendersi inutile nel suo progetto ci vuole tempo ma si può arrivare anche qua ed è un passo fondamentale perché questa persona inizia ad accumulare capitale cioè quando io divento un imprenditore inizio a lavorare con centinaia di migliaia di euro con milioni di euro tutto questo capitale mi serve per spostarmi nel l'ultimo quadrante nel quarto quadrante che quello degli investitori così a naso adesso non so se tu ti ricordi ma la differenza tra un imprenditore un investitore secondo te se io ti dico quanto guadagna il CEO di coca cola o quanto guadagna warren buffett che ci ha investito in coca cola il suo guadagna 10 milioni l'anno warren buffett l'anno mezzo miliardo warren buffett cioè guadagna 50 volte di più e non è che ogni giorno deve andare al lavoro da coca cola e sbrigarsi tutti i problemi questo perché l'investitore stiamo parlando di un livello di libertà e di entrate che non ha niente a che vedere con tutti gli altri se vogliamo raggiungere la libertà finanziaria bisogna arrivare a essere degli investitori per far questo c'è tutto un percorso da fare anche perché poi quando arriviamo qua nell'ultimo quadrante il denaro deriva direttamente dal capitale quindi più soldi abbiamo più soldi possiamo fare quindi più nuovi soldi abbiamo più ancora più soldi possiamo fare è un circolo vizioso cosa succede che tante persone sbagliano perché vogliono passare da dipendente ha subito investitore o del dipendente a far subito l'imprenditore non funziona perché mancano delle cose basilari il primo modo per passare dal dipendente al freelancer e questo qui è diciamo il passaggio iniziale che tutti devono fare è quello di fare un secondo lavoro cosa mi permette di fare un secondo lavoro di imparare delle abilità se io voglio generare valore devo avere qualche competenza cioè devo sempre restare davanti a una telecamera per comunicare sapere magari insegnare trading devo sapere qualcosa come faccio a farlo imprenditore se non c'è competenze non posso una volta quindi fatto questo primo passaggio da freelancer possiamo diventare imprenditori e l'abbiamo già detto qual è il modo quello di imparare a delegare quindi qui si genererà molto più valore e dobbiamo diventare responsabili delle azioni anche degli altri non è per nulla facile è un'abilità secondo me tra le più difficili da imparare quello di non aver più sotto controllo il proprio lavoro il proprio prodotto ma delegare a qualcun altro questa responsabilità quando riusciremo a far questo passeremo lì negli imprenditori ultimo passaggio da imprenditori dobbiamo saper gestire un'azienda dobbiamo saper gestire i soldi perché se vogliamo accumularne tanti in poco tempo dobbiamo iniziare a saper lavorare col debito quindi andare dalle banche andare dagli investitori chiedere a loro i soldi per avviare i nostri progetti non si avvia mcdonald così con due lire non si avvia una qualsiasi attività imprenditoriale seria senza soldi servono capitali che ci ridà gli altri quindi se fino a lì ci siamo arrivati con le nostre forze dobbiamo iniziare a trovare delle persone che ci supportano e credono in noi una volta fatto questo ragazzi diventate investitori perché avete un sacco di soldi e da lì la strada è in discesa prima di chiudere in realtà alla fine c'è un quinto blocco che padre ricco padre povero e buon kiosaki non mi nomina ma è quello dei tipo super ricchi cioè l'un per cento della popolazione chi è lì gente come tipo Elon Musk Jeff Bezos Bill Gates Warren Buffett che più ne ha più ne metta sono persone che ormai hanno cifre talmente elevate che non ragiono nemmeno più nel senso di quanto guadagno ma nel come posso essere utile al mondo cosa posso fare per la società e quindi lì poi hanno tutti i loro così benefici le loro cose filantropiche eccetera eccetera però prima di arrivare all'un per cento ce ne vuole e poi bisogna essere praticamente quasi solo cittadini americani perché abbiamo visto che insomma da italiani è molto complicato ma si può fare si può fare Ferrero sono mi sbaglio è l'italiano più ricco del dell'italia del mondo del mondo italiano signori questo è un po quello che dovete fare skill le imparate leggendo delega le imparate lavorando in team e insomma chiedere capitale dall'esterno lo imparate lavorando con manager e persone importanti quindi stringetevi dei buoni contatti ci siamo detti tutto se volete commentare commentate se volete mettere mi piace mettete un mi piace se volete iscrivervi iscrivetevi ma cosa più importante di tutte attivate la campanella perché io ogni ora la domenica vi inviano tipi no ogni volta che esce un mio video voi riceverete la notifica e siccome manca la terza parte che quella più importante poi l'attivate e costanza quando pubblica il video vi avviene dice i facciate diventare ricchi c'è da perdere tempo ci vediamo una puntata numero 3 a presto ma tu dici ma adesso qua e aspetto tanto tanto io la registro sempre adesso sono loro gravidano dopo ma noi la registriamo adesso